Un consiglio dei ministri convocato d'urgenze è durato una manciata di minuti. Giusto il tempo, dice più di qualcuno, per sreliare i partiti e prepararli a passaggio parlamentare, che a questo punto sarà blindato dalla fiducia. E' quello che è successo ieri sera a Palazzo Chigi, dove il premier Mario Draghi ha messo sul tavolo la riforma delle concessioni contenuta nel DDL concorrenza, facendo intendere che il tempo è giunto per una sua approvazione costi quel che costi. Insomma, la riforma delle concessioni balneari rischia di mettere in crisi il governo. Riccardo Padovano, le concessioni demaniali rischiano di diventare un affare di Stato. Perché cosa è successo? Perché è successo quello che nessun paese democratico si sarebbe aspettato. Noi siamo un'organizzazione di categoria che abbiamo partecipato dal 28 dicembre a tutti i tavoli istituzionali della politica, anche del governo, per trovare delle situazioni mediane che consentiva al turismo balneare di proseguire la loro impresa. Abbiamo invece visto che in questi ultimi giorni, al rientro dall'America, che il presidente Draghi sta comportando da padre padrone. Noi non ci siamo e siccome la politica ha buttato la spugna e quindi vuole buttare all'aria 30.000 imprese del turismo balneare, quindi noi adesso siamo in attesa. Non parliamo più, non partecipiamo a più tavoli, aspettiamo finché dove vogliono arrivare, siamo all'apertura della stagione balneare. Io credo che la politica stia molto presente in questo momento e tenga conto che l'impresa balneare è una cosa seria e eviti di buttare in strada queste imprese. Draghi ha fatto quello che noi sentiamo in televisione. Lei ieri durante il dibattito sull'Ucraina ha convocato un consiglio dei ministri ed è durato 8 minuti. Mai visto nella storia repubblicana è una cosa del genere. Io forse voglio tornare indietro, non c'era quel periodo negli anni venti, però questa attività, questo atteggiamento lo fa chi vuole comandare a tutti i costi. Io vorrei dire ai partiti politici evitate di fare la campagna elettorale con gli stabilimenti balneari. Ecco, ma in sostanza cosa succederà? Si porrà la fiducia su cosa? Sul decreto legge della concorrenza, dove pare che tutti i problemi dell'Italia siano legati agli stabilimenti balneari, ai tassisti, alle fasce attualmente più deboli e forse molto probabilmente non si tiene conto di quello che stanno facendo a livello internazionale, bollette eccetera. Beh, io se fossi un segretario di partito è già inutile di fare gli annunci, gli annunci non servono a niente. Si va là, si chiede ai propri ministri, perché il problema è che il segretario di un partito dice una cosa, poi i propri ministri rispondono a Draghi, ecco perché i partiti sono stati precettati dal presidente Draghi e ne sono convinto di quello che dicono.